Il futuro dell'anno gastronomia toscana si scrive a Firenze. L'occasione per fare il punto è arrivata dalla due giorni di Food and Wine in Progress, l'evento che la stazione Leopolda ha messo insieme il 1 e 2 dicembre produttori sommelier e chef. La rassegna promossa dall'associazione italiana sommelier toscana e dall'unione regionale cuochi è stata anche l'occasione per chiudere con una riflessione approfondita all'anno del cibo italiano e di farlo in una vetrina dove ritrovare produzioni di altissima qualità e altamente innovative. Trovo che c'è voglia principalmente di scommettere, di mettersi in gioco, c'è un aspetto di consapevolezza che il brand toscano può dare un valore aggiunto. Noi dobbiamo solo cercare di incentivare, di informare e anche di formare diciamo così nuove opportunità e di fare in modo che queste eccellenze trovino una collocazione sui mercati diciamo ai prezzi giusti. L'enogastronomia toscana viaggia dunque su tre pilastri, la tradizione, l'eccellenza e l'innovazione fondamenta sulle quali si basano anche le esperienze di alcuni dei produttori presenti alla Leopolda. È il caso di chi oggi reimpiega il grano anche per la bellezza della pelle. La nostra innovazione è in azienda agricola produciamo grano verna e quindi a portare il grano verna anche in cosmetica, quindi non solo prodotti alimentari che comunque con questo grano riusciamo ad ottenere dei prodotti straordinari, però anche sfruttarne le proprietà antiossidanti, la ricchezza di vitamina E anche per la pelle. Ed a proposito di mettersi in gioco c'è chi lo fa nella propria impresa agrituristica, a pensarci è stata la col di rette che ha messo in piedi il progetto di formazione degli agri chef dall'orto alla cucina fino alla tavola, così la filiera oggi diventa cortissima. La filiera si accorcia, diventa distintiva, diventa una filiera che fa dell'origine il suo punto di forza, ma accanto a questo c'è la tradizione, c'è l'innovazione e c'è tutto quel valore aggiunto che i nostri magnifici agri chef fanno negli agriturismi, quindi trasformare il prodotto agricolo in un piatto prelibato, in un piatto gustosissimo, in un piatto molto bello e questo è quello che noi vogliamo anche tutelare con la campagna Stop Cibo Anonimo. Vogliamo che il cibo abbia la sua etichetta, la sua origine e chiunque possa sapere quale è l'origine del prodotto agricolo che va a mangiare. Dalla produzione alla cucina all'impiattamento il passo è breve e oggi anche gli innumerevoli i turisti che vengono a visitare la Toscana cercano anche questo, un'esperienza autentica, vedere il prodotto correre dall'orto alla padella, assaporarne la tradizione, ma anche lo spirito creativo che caratterizza gli italiani, in particolar modo il genio toscano. E proprio l'esperienza gastronomica diventa sempre più importante anche come motivazione di viaggio, questa la vera sfida del 2019 per la Toscana. L'estate 2018 ha segnato l'anno record della spesa nell'enogastronomia per quello che è l'enogastronomia italiana, per cui troviamo una motivazione del viaggio crescente nei nuovi turisti, in quelli italiani, in quelli stranieri, in quello che è elemento del cibo, quindi noi lo vogliamo celebrare al meglio. Quel che è certo è che in Toscana le basi per fare bene non mancano, lo ricorda la storia come testimone due premi consegnati nel corso della manifestazione a Firenze, uno a Luciano Artusi, erede del padre della cucina italiana Pellegrino Artusi, e l'altro a Franco Torrini, titolare di Torrini Gioielli, azienda attiva a Firenze dal 1369 e creatrice delle celebri forchette d'argento che Caterina De Medici portò con sé alla Corte di Francia. Due riconoscimenti che ricordano la capacità di innovare, di creare e di essere sempre al passo con i tempi e di fare dell'amore per la propria terra la prima leva di successo e di futuro.